A concludere col professor Garattini, e cioè, quello che abbiamo capito oggi, ripeto, al di là del fatto che probabilmente se avessimo altri vaccini faremmo scelte diverse, e che però plausibilmente gli altri paesi continueranno a fare come vogliono, allora almeno forse il nostro ministro della salute, non lo so, una figura del governo dovrebbe rassicurare rispetto al fatto, cioè si dovrebbe prendere la briga di andare, non lo so, a tagadà, e spiegare al pubblico che alle signore sotto i 55 anni, accettiamo anche una telefonata, una signora sotto i 55 anni può stare tranquilla, si può vaccinare, fidatevi di me, lo deve dire Draghi, lo deve dire Speranza, perché altrimenti è complicato, o no professor Garattini? Certamente, cioè, era stata una buona risposta a quella di Draghi di farsi vaccinare con AstraZeneca, se la moglie, non so se abbia una moglie, ma se la moglie di Speranza si facesse vaccinare con AstraZeneca, sarebbe un aspetto molto importante per rassicurare la gente. Pomicino?